Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati in compagnia della mia ragazza Per andare a fare una random skin challenge non potevamo non fare la random skin challenge dei 4 nuovi boss in mappa La temporale non è proprio un nuovo boss però comunque io lo prenderei in considerazione nella challenge con i 3 nuovi boss che hanno i bunker A seconda del boss che mi capita dovremo andare ovviamente in quella zona e l'obiettivo è quello di aprire il bunker e utilizzare chiaramente le armi del boss Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYTUTTOGRANDE E TUTTO ATTACCATO all'enco soggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYTUTTOGRANDE E TUTTO ATTACCATO Anche perché ogni due settimane il codice è scato e dovete reinserirlo Grazie davvero di cuore a chi lo farà è davvero fondamentale per supportarmi Andiamo a mettere la skin casuale ed esce... io non mi ricordo i nomi Sangue d'oro L'hai vista tu quale c'è? Eh però ce l'ho io equipaggiato Ok sangue d'oro ragazzi, sangue d'oro Perché a stavolta io cambio, metto Ash, a meno che abbiamo due boss diversi Va bene Quindi ragazzi ci tocca andare a bastione brutale Allora ragazzi è anche praticamente la prima città subito dopo laboratori e sponde Quindi occhio perché ci potrebbe atterrare veramente un sacco di gente Ma io vi vorrei ricordare che l'altro giorno è uscito un video specialissimo In compagnia sempre di Serena ma anche con mio padre Dove ci siamo splittati in tre nei vari bunker Ed effettivamente ho pensato perché non fare anche lo stesso video ma calcolando anche la temporale Che è sempre un altro boss come ho fatto per questa random skin challenge Quindi lasciate un bel mi piace se vorreste l'episodio in cui in quattro ci splittiamo Dai quattro boss sostanzialmente Mi raccomando Detto questo ragazzi io ovviamente posso C'è gente? Eh sì ma me lo immaginavo Posso lutare Poi non appena andiamo ad uccidere il boss Utilizzo soltanto le armi che troviamo chiaramente nel bunker E Nel E quelle del boss Allora amore io direi che ci riuniamo Appena riusciamo Perché questi stanno già sparando Sei tu? Sono io Ma perché mi aveva pushato uno col pompa Ah oddio qua c'è Eh allora regà io le uccito le guardie intanto Perché tanto dopo ci danno fastidio Tanto regà dopo ci darebbero fastidio Quindi tanto vale farle fuori immediatamente Qua c'ho dei passi Ah no è il boss Ma io punto subito il boss Oh mio dio Eh sì io lo scagnozzo l'ho fatto fuori Ma questa mi ha devastato Io mi dimentico di quanto siano forti questi boss ragazzi Sono probabilmente i boss più forti Mai creati Dalla storia di fortnite Aia 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 Oh mio dio ragà Regà cioè Oh mio dio mi sta anche No è perché mi tracca Cioè sa dove sono Si è ettato da solo O meglio da sola Eh vabbè Mi sta cercando fino dall'altra parte della mappa Amore il boss No ti giuro Eh arrivo eh Eh sì sto cercando Di risolvermi la situazione Da lontano Senza rischiare troppo ma Abbastanza complicato Mi bevo un bel succo No regà cioè dai Guardalo guardalo Guardala anzi Dove è andata? Eccola Rotto shield Ok dovrebbe essere quasi morte Sì sì Sono il bot Eh tranquilla Tranquilla Quasi sicuramente sono il bot È morta è morta è morta Ok Madre mia ragazzi Che difficoltà Non lo so se sono il bot Non lo so se sono gli scagnozzi O ehm O persone vere Ma questo Questa potrebbe essere una persona vera Aspetta No eccolo è uno scagnozzo Un bot No 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 lì è una persona vera però Ok Io ho praticamente finito i colpi del pump Mamma mia regà Che macello Ho atterrato uno Ok Io ho preso Regà L'ho preso a casissimo Il coso Il perk Allora questo assalto lo devo tenere Oddio un all might Sì Questo ma questo Ma ti sta sparando da così lontano col pump L'ho distrutto Però sta scappando Ok bravissima E possiamo andare ad aprire il bunker Però mi sa c'è altra gente qui in giro Eh sì perché io qua ho atterrato un'altra ancora Sì 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 siamo un bot Ma non mi ha preso le munizioni del pump Vabbè Sto gioco fa cose Fa cose ragazzi Va bene Allora intanto metto ad aprire il bunker Che almeno mi tolgo la card Dall'inventario Sto distruggendo il robottino qui Ok signori Io da adesso in poi posso utilizzare Soltanto l'arma del boss E le armi che andrò a trovare qui Abbiamo trovato subito un pin 90 signori Immediatamente un pin 90 Oddio lanciarazzi Sapete che potrebbe essere un'idea lanciarazzi Ma quante super ceste delle munizioni ci stanno? Un botto Oddio regà lanciarazzi potrebbe... Il barret Il barret ragazzi oggi ci divertiamo Oggi ci divertiamo col barret Vorrei trovare anche il perk del cecchino Se riesco sarebbe tanta roba E il pump Regà Belli aggressivi Che dite? Belli aggressivi Avendo anche la... Il sospetto al massimo praticamente Mi son curato Mi son fullato letteralmente ragazzi Senza curarmi con niente No amore guarda tra l'altro la skin originale la taglia Oddio è vero La skin originale da cui hanno fatto quella del boss Eh sì perché raga sto boss è un... Diciamo è un... È uno stile Della skin di cui dobbiamo... Che dobbiamo killare C'è qualcuno amore? Non mi stanno sparando però... Sì? Si stanno sparando però di loro Ma chi è? Io sto cercando tra l'altro dei perk Vorrei trovare quello del cecchino raga Oddio la mitraglie... La pistolina mitica L'hai trovata Eh io l'ho appena sbloccata Non ce l'avevo ancora Bianco E l'ho trovata Ah quindi l'hai sbloccata adesso? Sì Lol finalmente ce l'hai fatta Io ho trovato il doppio... Il doppio colpo del cecchino E sento spari da quest'altra parte Eh io ho attarrato un altro Ma e raga io stavo qua C'era un cecchino prima L'ho lasciato io Amore ce l'ho il cecchino E non posso prenderle le armi in giro Ah giusto Allora... Ma quello è un lupo Ma raga ma mi ha segnato degli spari qui? Vabbè comunque... Ma lo avevo attarrato me lo so perso Ah stanno planando C'è qualcuno che sta planando Lì? Dove? Qui Ok Ah sì sì visti visti Allora Si è buggato Che cosa? Ma vabbè sta laggando poverino Ma poverino raga Si è buggato o laggava Stai provando una trottola Sì ma forse pure tutte e due Si è buggato e laggava Ma raga ma non ho mai visto cosa del genere In sette anni di Fortnite praticamente Tra l'altro c'ha il pump leggendario Se ti interessa Eh no io no Ah è quello del tuono Vabbè Lo sai non lo so Ah ma ho dato la kill di quello di prima Che ho atterrato prima Verso di qua Ok Ma raga io direi che finchè la safe è qui Ce ne rimaniamo qua Potremmo fare pure la challenge Che ci Facciamo finta di essere il boss Ma tanto non credo ci venga Tanta altra gente da poter trollare Quindi E se ho il boss scappato dal pooling È tutto Sì esatto Sei l'altro boss Ma li stai trovando tutti e te Io prendo le jump Sta qua dietro Ma anch'io le stavo prendendo Ah non le vedo Ok Eh io non lo vedo più No nemmeno io Ah no questi piedini I piedini Dovrebbe essere qua dietro Si stanno a nascondere qua dietro Eccolo Ma che cacchio fa Ok 126 No l'ho lisciato Ma hai messo malissimo Ok Infatti era bianchissimo Ah bisogna che era il compagno Di quello che ho atterrato prima Ho capito Ma è andato nel panico Allora ragazzi Siamo fuori safe Purtroppo Quindi ci tocca andare Dentro la safe Se no arriva la tempesta E quindi direi di muoverci Immediatamente Anche perché siamo ancora 37 Quindi qualche altra kill La potremmo ancora tranquillamente fare Eh Oh sparano Mi sa se al benzina Io c'ho sempre Che hai fatto? Eh la nota è caduta Perfetto Sono scivolata Ah c'è gente qua Sì Eccola Era 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 taglia Era taglia Gli stanno sparando No no la voglio far fuori io Aspettate Sta qua dietro Ma Mamma mia rega Questo tanto è forte Mamma mia Sto pampanto è forte No questo si è nascosto In cespuglio Sì ma uno si è nascosto In cespuglio Non lo riesco a prendere Eh devo ero io però Quello nel cespuglio Sì Ma eh Ma mi sa che se n'è andato Che Ma che cavolo Ah sta scappando La taglia sta scappando Ma guardate Ok Ok Perfetto E Eh lo so Eh lo so Lo so Lo so Lo so E ce n'è un altro Che sta andando a prendere No no vuole andare a prendere Il potere di Deku Quello 126 Eh l'ho lisciato Poi Ok mi spara Laserato Perfetto Mamma mia rega Ste armi esotiche Quanto so forti Ste nuove armi esotiche Rega So veramente fortissime Io lo provo adesso Non l'ho mai usato ancora Che il pompa Eh quello è molto Oddio Mi sparano È morto praticamente Eh no rega Faccio prende schifo Col Oggi sto a fare schifo Col cecchino Brava Stai continuando a lasciare Sì sì Li lascio Sì perché io tipo Li lasero Però poi rimangono one shot Capito Sempre così Un classico per me Però è fuori safe Eh sì 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 Ma tanto Facciamo qua Signor Gigi cecchino Li fa fuori in mezzo secondo Come li lascia one shot Esatto Oh qualcuno è salito alla zip Vabbè rega C'è un aguno qua dietro Oh Eh c'abbiamo un aguno Stanno qua sotto Stanno Eh lo so ma ci sta Puscia l'aguno pezzo Sì Ok uno l'ho fatto Sì Ok atterrata Questi sono rimasti Bloccati qua sotto Perché ci hanno paura A prendere la zip E non riescono a prenderla Mamma mia quanto è forte Sto pompa Troppo Troppo Sto pompa esotica È troppo forte E niente Ci conviene andare Quelli là Tanto sono rimasti bloccati Là sotto Guarda come P8 Sì 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 Oh eccolo Sta arrivando dalla Tempesta da qui No vabbè rega No vabbè Ok però con l'assalto Mamma mia rega Poi con l'effetto punto zero Eh lì c'è gente Questa qualcuno dietro il camion Ok mamma C'è già sparato qualcuno Sai Eh lì dietro il camion Sì Anche da qui Eh vabbè mi pinga la pistolina Da qua Ah lì Sarà il compagno della Kuno Perché la Kuno veniva di là Vabbè questo stava fermo così Perfetto Sta in mezzo ai due alberi Sei nascosto in mezzo ai due alberi Oh Aiaiaiaiaiaiaiaia Sì Ma perché ci pusciate Se siete messi male Oh oh Usano la zip qua Sì hai visto Oh mio Dio, questo l'ho preso bene, regà Eh, vabbè, poi lo liscio Chiaramente con l'assalto Ma va bene, un altro qui, l'altro colpo Mamma mia Ma questo, tra, tutto a posto? Tutto a posto, va bene Eh, mi cegna altri spari di là Madonna qui quanti sono Eh, ma mi sa che stanno tutti lì, anche perché siamo rimasti Solo in undici adesso Eh, io sono molto indietro Eh, ma tanto stanno fai dando pro di loro Io sto a fare l'infame Eh, sì, sì, vabbè, fai tessi incomodi Vabbè, niente, però, manco che mi entrano Sì, vabbè, questo io ho sparato sotto l'ascella Praticamente Gli ho tagliato i peli sotto le ascelle C'è chi dice che gli fai la riga In mezzo ai capelli Eh, capito, gli è passata sotto il braccio Gli è passato il colpo C'è un'arma non mitica, adesso ho pure l'assalto LOL Allora, siamo rimasti in tre team Uno sta da solo, un'altra duo come noi E poi noi Comunque volevo dire esotica Ah, ma infatti ti stavo per dire Ah, sparano Oh, comunque, regà Qua ai benzinai c'è sempre qualcuno, è incredibile Aspetta Ah, no, quello è inferno, regà Quello è il bot Oh Oddio, l'ho preso Il no scoop Col cicchino Era quello da solo, però, purtroppo Eh, attento che qui le guardie si triggerano Che abbiamo un po' troppi ammelle Eh, sì, sì, è vero È vero, andiamocene Oh, oh Eh, non è il basso No, 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 no Sì, sì, sì Ah, no, quelli sono i bot, ma qui no Sicura? Sì, qua Ah, è vero A terra? Da dove spara l'altro? Dove sta? Eh, no, sono i bot che sparano Eh, però il compagno di questo qua Deve sta forza qua vicino Scusami Mamma mia, comunque Sono riuscito a farla Sta cecchinata finalmente Oh, eh, sentite Pure voi ne hai rotto un po' le scatole Eh, eh, dai un po' Dai un po' Su Ah, no, questo è l'altro bot Eh, ce l'ho detto Sono tutti i bot per ora che sparano Ah Ok Eh, no, no, no Però qualcuno ci ha sparato di qua, eh Eccole l'altro Let's go, signori Ho fatto abbastanza schifo Per tutta la partita Col cecchino, eh Devo dire Però, alla fine della fiera Siamo riusciti a fare Le ultime tre kill Con dei bei colpi di cecchino Detto questo, ragazzi Ovviamente vi ricordo Ma al solito Il codice creatore GGY Non ti tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti di Fortnite È fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciando a me il mi piace Fatemi sapere Prima che chiudi Io ti devo far notare una cosa Che mi ha messo la tua stessa skin Sì, su due su due Te l'ho predictata Eh, vabbè Ci sta Mi raccomando, ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se vorreste l'episodio in cui ci splittiamo Nei quattro Ai quattro boss Diciamo così In quattro persone Per noi tutto ci troviamo domani Con un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzuoli Ciao ciao